Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuto a una puntata. Abbiamo ospite un cantante, un rap, di Ugole, e a questo punto la domanda spontanea viene da semplice. Scrivendo il testo di questa canzone, come lo descrivessi Ugole? Allora, Ugole lo descriverei... Allora, innanzitutto deve essere una canzone abbastanza, tra virgolette, aggressiva, nel senso che comunque sono cresciuto ascoltando rap, ovviamente, rap, trap, hip-hop. Sono appassionatissimo di hip-hop. Sulla mia musica, diciamo, cerco di dire il vero, nel senso quello che sono io, senza esagerare, senza dire magari cose che non ho vissuto, senza... Insomma, dico la verità. Sui miei pezzi dico la verità. E a questo punto parliamo del nuovo singolo. Il secondo di singolo che hai tirato fuori. Come nasce questo singolo e da cosa hai tratto ispirazione? Allora, questo singolo che è sentito da Pastore Tedesco, è nato, diciamo, c'è un mio amico che ha un pastore tedesco, è nato proprio così, nel senso che lui mi fa ma se tu dovessi scrivere una canzone, diciamo, rappresentandoti in... magari facendo paragoni con un animale, eccetera, e a me mi è venuta in mente questa canzone, ho comprato un beat, ho trovato un beat, e ci ho scritto sopra proprio di getto. È raro trovare, diciamo, una canzone con un pastore tedesco, cioè non esiste, magari ci stanno alcune canzoni che citano animali, rottweiler, cose del genere. Non lo so, mi sembrava originale, ho scritto. Cioè io la musica la faccio in questo modo, nel senso, quello che mi viene in mente, scrivo di getto, non è che penso, diciamo, a quello che può venire, a quello che, diciamo, può produrre la canzone, ecco, che io faccio. La scrivo e se mi piace la pubblico e non è che sto a pensare, magari, questa canzone diventerà una hit, questa canzone mi farà far successo, io la faccio e basta, diciamo. Ci sarà possibile poi fare un videoclip nel futuro di questo brano? Allora, di questo brano non ce l'ho in mente, però ho dei progetti anche con altri ragazzi che, diciamo, fanno musica come me e abbiamo in progetto un video, però per questo single non ho progetti, ecco. C'è qualche artista in cui ti sei ispirato o comunque che ti fa crescere anche, ti ha fatto crescere artisticamente? Guarda, io ti dico, il mio artista preferito, porto anche la felpa dell'ultimo album suo, è Salmo, e io, cioè, la prima musica, diciamo, il primo tipo di musica di cui mi sono innamorato è stato Salmo. Cioè, io sono cresciuto con Salmo dal primo disco fino adesso e poi ultimamente ascolto tanto il genere più, tra virgolette, trap, perché comunque la nuova influenza è tutto, però se ti devo dire, un artista a cui io mi ispiro è lui, è Salmo. E quando porta, conta, ormai il fatto che si utilizzano tutte queste piattaforme Spotify, effettivamente il supporto fisico ormai è in decadimento, perché molti ascoltano musica o il telefonino, secondo te può essere un vantaggio per i giovani artisti oppure un svantaggio? Allora, un vantaggio è sicuramente perché comunque è più facile farsi conoscere, tramite queste piattaforme digitali, però secondo me la musica è live, cioè infatti io che ho iniziato comunque da relativamente poco, ho pubblicato due singoli, quindi ho iniziato da poco e quando c'è la possibilità io faccio le serate, magari anche se ci stanno dieci persone a ascoltarmi, però secondo me la la vera essenza della musica diciamo è il palco, cioè cantare live. Poi ovviamente le piattaforme digitali aiutano molto per farsi conoscere, questo è ovvio. Cantare dal vivo, suonare dal vivo, cantare dal vivo, qual è l'emozione che si prova quando c'è il palco davanti, la gente inizialmente è silenziosa ma poi è partecipe nella tua canzone, tu che cosa provi in quel caso? se la gente partecipe ovviamente provo piacere e le emozioni che provo quando canto ovviamente è la mia passione e quindi cioè io se canto anche davanti a una persona sola comunque canto e mi sento felice e dopo è anche vero che magari all'inizio quando si è poco conosciuto anche perché io vengo da un paesino piccolo diciamo quando si è poco conosciuti magari anche se c'è una piazza abbastanza grande comunque c'è gente che magari ti guarda gente che sorride però sinceramente io non sento pressioni o niente nel senso io salgo sul palco e canto e il resto mi importa poco diciamo tu fai rap sì l'idea di proprio di intraprendere rap e non sfociare nel mondo della trap come tanti personaggi da gali a tanti altri perché proprio la linea rap in questo caso allora guarda io mi definisco rapper diciamo se proprio devo darmi una definizione mi definisco rapper e faccio rap però sperimento nel senso che ho approggiato anche con cioè ho progetti anche drill che poi comunque drill trap sono comunque rami del rap dell'hip hop rap perché io ho ascoltato sempre e solo diciamo questo non so forse è un limite quello che ascolto principalmente è il rap e mi ritrovo su su quello e poi ti ripeto ho anche progetti drill trap eccetera però se devo definirmi mi definisco rapper se potessi fare delle futureing con qualche personaggio oltre a chiaramente a quel personaggio che tu hai citato perché ti sei ispirato ci sarebbe qualcun altro allora sì mi piacerebbe molto è proprio un sogno Lazza perché secondo me è uno dei dei più bravi nel senso che è il più come posso dire sa fare tutto cioè sta bene se fa una canzone pop se fa una canzone rap se fa una canzone trap e un altro che mi piacerebbe molto perché secondo me rappresenta proprio l'hip hop in Italia è due pequegne e a questo punto parliamo un po' il primo disco il primo singolo come nasce quel singolo da cose tratti ispirazioni allora quel singolo diciamo è nato proprio è stata la prima le prime strofe che ho scritto sono state le prime strofe che ho scritto e ho trovato inizialmente avevo trovato un beat diciamo su youtube dove proprio io ci rappavo sopra e poi niente siccome io non avevo contatti non conoscevo comunque studi o produttori ho cercato studiavo io a Perugia facevo l'università a Perugia che ho lasciato e sono andato su internet ho cercato diciamo studi di produzione ho trovato uno studio Urban Records dove mi sono trovato molto molto bene e niente abbiamo prodotto il pezzo l'ho scritto in pochissimo tempo cioè forse non so se era un'esigenza infatti il titolo è non credo e sul sul pezzo parlo diciamo un po' di di tutto la situazione in generale e quello che mi dà fastidio di alcune cose anche di alcuni politici tratto un po' di temi generali ecco però è stato scritto proprio di di getto cioè io ho scritto il pezzo e poi mi sono diciamo organizzato per cercare uno studio appunto dove registrarlo progetti futuri progetti futuri ho un singolo che dovrebbe uscire a fine ottobre che si chiama Air Force Freestyle è un freestyle e mi piace molto fare freestyle infatti ho due pezzi pubblicati e questo che esce che sono tre freestyle e questo qua diciamo questo qui è più un pezzo dove parlo di me dei dei miei amici di di quello che vivo diciamo tutti i giorni è in uscita il fino ottobre e per chi ci ascolta vogliamo spiegare che cos'è il freestyle se qualcuno ancora non sa che cos'è il freestyle allora il freestyle è diciamo un pezzo dove non c'è un ritornello dove non c'è un ritornello dove la base diciamo non ha tanti come posso dire tanti cambiamenti ecco e ci si scrive sopra di getto perlomeno è quello che faccio io perché poi uno può anche interpretare nel senso non è per tutti la stessa cosa però un freestyle è un pezzo senza ritornello dove si segue una linea ovviamente parli scegli un argomento parli di quello e vai avanti dall'inizio alla fine del beat niente penso sia questo perlomeno io lo vedo in questo modo gli indirizzi dove poterti raggiungere su spotify su instagram il nome è ugol semplice u g o l poi io le canzoni si le pubblico su spotify su youtube su itunes su tutte le piattaforme digitali beh bene allora intanto augurandoti per i prossimi lavori un grande successo ci facciamo i saluti finali allora si è stato un piacere è la prima intervista che faccio quindi non so se sono stato bravo se non sono stato bravo e niente ti ringrazio per per l'augurio studio 7 in collaborazione con sport e piceno game presenta l'intervista di pietro ahah ok ok il gol yeah